In vacanza! Voglio andare in vacanza! Ma che cosa stai facendo? Voglio andare in vacanza! E con che soldi vorresti andarci? Pagliamo dopo, dai, paghiamo dopo. E con cosa ci vorresti andare in vacanza? Con la macchina. Ma è rotta! La porto dal meccanico! E con che soldi lo vorresti pagare in meccanico? Pago dopo, pago dopo, pago dopo, dai. E con tutti i debiti che abbiamo, cosa vuoi fare? Pago dopo, pago dopo, pago dopo. Ma non diamo un soldo! Ho capito che sei eccitato perché hai visto la trilogia della villeggiatura. Ma non ti ricordi che si ne fanno quei poveracci? Beh, insomma, quello di... Leonardo. Leonardo, sì, esatto. Si sposa con... Giacinta. La bella Giacinta. Sì, ma Giacinta non lo ama! Ama Guglielmo. Eh, vabbè, dai. Comunque Vittoria, la sorella, si sposa pure lei. Con Guglielmo? Ma Guglielmo ama Giacinta. È obbligato a sposarti con Vittoria? Perché Giacinta sposa Leonardo. Ma intanto sono andati in villeggiatura? Che cosa vuoi, Giacopo? Sì, quando sono tornati Leonardo e Vittoria, non ti ricordi che fino hanno fatto? Lo zio ha gli aiutato di dargli i soldi. Leonardo è dovuto andare a lavorare con il signor Filippo per padre di Giacinta, quando non voleva. Solo per colpa di aver speso tutti i soldi per la villeggiatura. Lo dice pure il maggiordomo. Vabbè, mi hai convinto. Non andremo in villeggiatura.